I finanzieri di Bari hanno tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari la barile Raffaele, 53enne di Acquaviva delle Fonti, amministratore della Car Service SRL, un'impresa di pulizie fallita nel 2014. All'imprenditore è contestata la distrazione delle casse aziendali di risorse finanziarie per circa 4 milioni e mezzo di euro, oltre alla falsificazione alla irregolare tenuta delle scritture contabili della società. Il 53enne, che formalmente risulta lavoratore dipendente di un'altra società operante nel settore turistico, è attualmente indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.